Frozen, il regalo di Elsa. La neve scendeva silenziosa sul regno di Arendelle e l'intera città era rivestita da un soffice manto bianco. I fiocchi di neve solleticavano il naso dei bambini e si scioglievano sulle loro lingue. Tutti, grandi e piccini, avevano accolto la nevicata con gioia. Non dipendeva dalla magia di Elsa, era davvero arrivato l'inverno. Dalle finestre del castello, la regina Elsa e la principessa Anna guardavano le persone che correvano su e giù per preparare il ballo di quella sera. Elsa sorrise. Per la prima volta da quando era bambina, le porte del regno erano aperte. Il suo potere magico era finalmente sotto controllo e, cosa ancora più importante, lei e la sorella erano di nuovo unite. Forza, vieni, le mise fretta Anna, c'è ancora molto da fare. Le sorelle erano al lavoro da giorni. Il castello risplendeva grazie alle magiche decorazioni di ghiaccio di Elsa, ma c'erano dei dettagli da sistemare. Elsa rivolse lo sguardo verso la sorella e sorrise. L'atto d'amore di Anna aveva salvato la sua vita e quella degli abitanti del regno di Arendelle. Ora era giunto il momento di ricambiare. Elsa desiderava fare qualcosa di speciale per mostrare a tutti quanto volesse bene ad Anna, ma non sapeva bene cosa. All'improvviso ebbe un'idea. «Ehm, scusami, ma ora devo proprio andare», disse alla sorella prima di correre via in cerca di Christophe. «Christophe», chiamò Elsa poco dopo, vedendo l'amico attraversare il cortile del castello, «ho bisogno del tuo aiuto». La regina spiegò al ragazzo che voleva creare con le proprie mani un regalo perfetto per Anna. «Pensavo a una scultura di ghiaccio», disse. «Ottima idea», approvò Christophe, e subito si impegnò a cercare un blocco di ghiaccio adatto. Nel frattempo Elsa si era chiusa in cucina. «Elsa», la chiamò Anna bussando alla porta, «sei qui dentro?». «Non entrare! Ora ho da fare», urlò la sorella. «Ci vediamo dopo. Adesso vai in camera tua!». In cucina, Elsa e Olaf si erano messi al lavoro in gran segreto per preparare i biscotti preferiti di Anna, dei gustosissimi omini di pan di zenzero. I dolcetti erano riusciti alla perfezione, anche se Elsa aveva dovuto rinfrescare Olaf diverse volte. Il pupazzo di neve, infatti, aveva la bizzarra abitudine di avvicinarsi sempre un po' troppo al forno. Finito di preparare i biscotti, Elsa sgattaiolò nella sua stanza. L'armadio traboccava dei regali che aveva preparato per Anna nel corso degli anni, ma che non aveva mai potuto consegnarle. Elsa portò tutti i pacchetti nel salone e iniziò a sistemarli. Poco dopo arrivò anche Christophe, reggendo un enorme blocco di ghiaccio. Elsa non perse tempo e realizzò una scultura splendida, identica ad Anna. Poi si guardò intorno. Era tutto molto bello, ma non ancora perfetto. «Dov'è Anna?» chiese Christophe. «Le ho detto di restare in camera sua per non rovinarle la sorpresa». «Sai, Elsa», provò allora a dire lui, «penso che Anna in realtà vorrebbe...» «Un po' un c'hai ragione!» esclamò Elsa correndo di nuovo in cucina. «Volevo dire passare del tempo con sua sorella», concluse Christophe parlando alla stanza ormai vuota. Elsa stava finendo di mescolare il punch quando Anna entrò in cucina. «Perché non sei in camera tua?» chiese Elsa imbarazzata. «Mi annoio da sola», rispose Anna. «Preferirei fare un giro fuori con te». «Ma così rovinerai la tua sorpresa», disse Elsa. «Anch'io ho una sorpresa per te. Seguimi», concluse Anna. Elsa seguì la sorella all'esterno nel cortile innevato, ma presto la perse di vista. «Dove sei Anna?» la chiamò spazientita. «Non ho tempo per questi scherzi ora. Devo ancora fare un milione di cose». «Splat!» Una palla di neve centrò la regina sui capelli. «Sorpresa!» gridò Anna, sbucando dietro un albero. «Cosa?» farfugliò Elsa pulendosi il viso. «Cosa stai?» Anna rise di gusto e poi con voce impostata disse «Ti sfido a palle di neve. Siccome non hai tempo per me, ho deciso di dichiararti guerra». Elsa sogghignò. «Anna, credo che tu abbia dimenticato chi di noi due ha dei poteri magici», disse prima di lanciarle una grande palla di neve. La battaglia andò avanti a lungo, finché Elsa non chiese una tregua. Il tempo era volato. Dovevano prepararsi per il ballo. Elsa rivolse alla sorella uno sguardo innocente, prima di lanciarle un'ultima palla di neve. «Presa!» urlò felice, correndo a mettersi in salvo dentro al palazzo. Quella sera, quando Anna entrò nel salone da ballo e vide la statua di ghiaccio, i biscotti, il pancio e i pacchetti preparati da Elsa, rimase senza parole. «Hai fatto tutto questo per me?» chiese commossa. Elsa annui. «Volevo farti un regalo perfetto. È tutto splendido davvero», rispose Anna. «Sei stata dolcissima, ma per me il regalo più bello è poter stare con te». «Anche per me», confermò Elsa. E prendendosi a braccetto, le due sorelle iniziarono finalmente a godersi il ricevimento. Insieme. Fine.